E' partita da Piazza Croci a Palermo la manifestazione Diamo luce alla città nata per dire no al caro Bollette. Da Caltanissetta presente una cospigua rappresentanza di lavoratori e organizzazioni sindacali tra cui CNA che ha promosso sul territorio l'iniziativa appoggiata da categorie ed istituzioni per dare voce alle istanze di chi è in difficoltà. Così il lungo corteo di protesta ha attraversato Palermo. Dice il presidente di CNA Caltanissetta Manduca ancora la crisi a Caltanissetta e Gela non è arrivata ma ce l'aspettiamo vogliamo e desideriamo che il governo ponga una certa riflessione su quella che è la situazione economica di questa nostra provincia. Dice il segretario Gallina di CNA questa di oggi è la giusta risposta che le associazioni di categoria stanno dando al governo regionale nazionale ponendo dei problemi seri dando delle proposte che possono servire a dare ossigeno alle imprese che in questo momento sono in crisi profondissima. Senza questo aiuto penso che a Natale arriveranno ad essere metà le imprese presenti nel nostro territorio. Il 2022 per le imprese è stato l'anno degli aumenti del costo dell'energia che in alcuni casi ha superato il 300% e si attendono ulteriori rincari. Gli effetti per molte aziende in Sicilia potrebbero condurre al lockdown produttivo ovvero a un fermo delle attività. Mentre l'inflazione galoppa il governo nazionale ancora studia come contenere rincari a scendere in piazza vicino ad imprenditori e commercianti e anche a pensionati famiglie e lavoratori di tutta la Sicilia ci sono anche i sindaci. Ed è il sindaco di Gambino a dichiarare siamo qui alla manifestazione a Palermo per il sostegno alle imprese e alle famiglie e a sostegno pure delle amministrazioni comunali. È il problema per cui stiamo sbattendo i pugni sul tavolo perché ci siano delle contribuzioni che aiutino e devono aiutare sicuramente le imprese in tutto questo mondo difficilissimo. Anche i comuni hanno la necessità di avere degli aiuti perché economicamente i bilanci dei comuni siciliani soffriranno tantissimo. Molti comuni più di 300 non hanno approvato i bilanci di previsione. La nostra città lo ha fatto ma con grandissime difficoltà. Noi siamo qui a protestare e a chiedere aiuto dallo Stato e dalla Regione.